Arrivano Ladybug e Chat Noir in tanti nuovi episodi, con nuovi superpoteri, nuovi supercattivi e nuovi speciali Miraculous. Per non perdere tutto questo e molto di più, ricorda solo tre cose, settimana prossima alle 19.45 e su Disney Channel, i nuovi episodi di Miraculous e le storie di Ladybug e Chat Noir, settimana prossima alle 19.45. Sono su Disney Channel!